Voleva eludere un posto di controllo dei carabinieri lungo la statale 106 Onica all'altezza di Cariati nel Cosentino, accelerando all'impazzata e investendo altre vetture che si trovavano lungo la sua traiettoria, finendo a sua volta contro un muro e morendo sul colpo. E' quanto accaduto ad un uomo di crotone del quale non sono state rese note le generalità. Secondo la ricostruzione realizzata dai militari, la persona in questione aveva rubato in Puglia l'automobile di cui era alla guida e nel momento dell'incidente stava facendo rientro nella sua città. Quando ha visto un posto di blocco dei militari dell'arma l'uomo ha accelerato sensibilmente la velocità investendo altre vetture e finendo poi la sua corsa contro un muro. Alla guida di uno delle automobili investite c'era una donna di 28 anni che ha riportato ferite gravi per le quali è stata ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Cosenza dove è stata portata con l'elisoccorso sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale.